Radio Press Radio Press Radio Press Ed eccoci pronti come consuetudine nell'appuntamento con Radio Press con noi in collegamento diretto il presidente della provincia di Novara Diego Sozzani Sono DJ Diego, DJ Diego, come te lo devo dire? Buongiorno presidente Eh, buonanotte Buongiorno a voi, tutto bene? È fantastico Oh, super fantastico io, DJ Diego, cominciamo a ragionare È vero che oggi parliamo della mia top ten? È una domanda a me? Oh, perché preferirei evitare, non l'ho sentita Ah, perfetto Passiamo sopra E allora chi c'è oggi? Diamo spazio a Barbara Ferrarese Beh, meno male, perché se ci fosse stato ancora marrcafoti di spazio ce n'era proprio poco La provincia di Novara ha realizzato un protocollo d'intesa finalizzato all'apertura di uno sportello IMSS presso il centro per l'impiego di Novara e di un punto informazioni presso il centro per l'impiego di Borgo Manero Come è nata questa iniziativa? È nata sotto il profilo dell'idea di semplificazione amministrativa che stiamo conducendo Chiamiamolo un sistema di relazione all'interno della provincia complesso Grande prese, fantastica l'idea dell'agenzia matrimoniale, le mandiamo giù il carbelo, gliela trovo una fidanzata E anche il personale dello sportello USI, l'ufficio sostegno imprese della provincia, partecipa all'open day laboratorio imprenditoria giovanile Insomma, un passo concreto nella direzione dei giovani fra i 15 e i 30 anni Cavoli, ma allora la Olga è già fuori target, non glielo troviamo un marito di risulta anche a lei? Sì, perché evidentemente lo sportello USI è aperto a tutti gli imprenditori che vogliano iniziare a investire Ma la preclusione, quindi il protagonismo a cui vorremmo dare come provincia rispetto a questo tipo di iniziativa è rivolto sicuramente ai giovani Grazie Presidente, soprattutto di cuore veramente per noi giovani 15 anni Mi immagino che voi giovani Sento un tono ironico nella sua voce Non crede, siamo comunque, come si dice in questi casi, giovani dentro C'è comune a tutti Vi aspetto la prossima settimana con Radiopress Ospite anche a Fucina, su Punto Radio, tutti i giorni dalle 12 alle 13 Con Paolo e Carmelo Oppure su Novara.com Da DJ Diego, buon weekend a tr-troppo tutti